...occupare che io sento le onde a nome del gamma T5-20 in le coordinate tortola. Io le proteggo, scontrivo il fio Piero Campolina, non serrare con il REM troppo. Gandale, passo! Piero, tu mangiaste con il REM? Te lo sei mangiato completamente, Piero. Piero, tu voglio andare, non lo facciamo con l'ultimo. Oggi devo, gioia! La sede che devo fare, Davide? Io sto regolando, ma ne posso regolare più di tanto. Sinceramente, non ho fatto la marcia di guerra, però inserisco. Il contone si sopra e non diceva più che ci posso fare. Avanti, ragazzi, un'Italia, sentite, unite le più belle cose. Cambio, ascolti, e non lo faccio. Avanti, Gioviero, stazione Bambolino e Diabolica. Stasera ce la stai dando veramente a grosso. Condivido, l'individo, 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 l'individo. L'individo 30, l'individo, l'individo e il massimo 3, 2, ascolti, lo dio Piero, che ti fa premare la stella a capo a capo. Piero, Bambolina, Fondo Scalta. 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 Piero, Bambolina, Fondo Scalta.